Recentemente il token ultima è stato aggiunto al listing della borsa delle criptovalute CoinW. Secondo CoinMarketCap, CoinW è tra i primi 50 exchange di criptovalute e il volume di scambi giornalieri raggiunge un miliardo di dollari. In sei anni la borsa delle criptovalute ha accumulato più di 7 milioni di utenti in tutto il mondo e si è classificata all'ottavo posto tra le borse mondiali. In queste istruzioni vi mostreremo come registrarvi, ricaricare e acquistare ultima dalla borsa CoinW. Per iniziare è necessario registrarsi sulla borsa delle criptovalute. Per farlo andate sulla borsa e nell'angolo in alto a destra premete su Register. È possibile registrarsi alla borsa in due modi, utilizzando il telefono o l'email. In queste istruzioni mostreremo come registrarsi utilizzando l'email. Inserisci quindi il tuo indirizzo email e crea una password. Dopodiché premi sul pulsante Second Code. Ti verrà chiesto di verificare la tua persona completando un semplice compito. Al termine della verifica un email con un codice verrà inviata alla tua posta elettronica. Copia il codice e incollalo nella riga appropriata. Accetta i termini e le condizioni e premi sul pulsante Register. Ora è necessario ricaricare il saldo della borsa. A tal fine nel menu in alto seleziona Wallet Deposit. Nella pagina che si apre seleziona la criptovaluta che desideri ricaricare e la rete desiderata. Mostreremo l'esempio del token USDT della rete TRC20. Apparirà un codice QR per la ricarica e un indirizzo da copiare. Invia la criptovaluta a questo indirizzo in qualsiasi modo tu voglia. Attendi l'elaborazione della transazione. Al termine dell'elaborazione vedrai che il saldo del tuo portafoglio è aumentato. Ora puoi effettuare il tuo primo order. Per farlo seleziona la sezione nel menu in alto Trade Spot. Vai alla sezione di ricerca premendo l'icona con le tre linee orizzontali e nella barra di ricerca addigita il nome della criptovaluta che vuoi acquistare. Cerchiamo la copia ultima USDT. Premi sulla copia della barra di ricerca si aprirà il grafico della copia. Puoi acquistare ultima al prezzo di mercato cioè quello attuale o impostare un order limite al prezzo che desideri. Puoi anche impostare un order stop limit che ti permette di impostare un prezzo stop e un prezzo limite allo stesso tempo per controllare il prezzo di esecuzione della tua operazione. Seleziona il tipo di order desiderato. Specifica il prezzo al quale vuoi acquistare ultima nel caso di un order limite e la quantità di ultima che vuoi acquistare. Quindi premi il pulsante buy ultima. Finito hai acquistato ultima sulla borsa CoinW. Per utilizzare i token è necessario trasferirli nel portafoglio dell'appoglio. Per utilizzare il portafoglio del portafoglio del portafoglio del portafoglio.